Momento meraviglioso nella vita del volto di Canale 5, che è diventato papà per la prima volta. Ha dovuto pazientare i classici nove mesi, ma alla fine l'evento più bello c'è stato nella giornata di domenica 20 ottobre, quando la sua compagna ha partorito dando alla luce un maschietto. Già lo scorso mese di maggio avevano detto ai fan che stavano per essere genitori. Precisamente entrambi avevano comunicato, come ricordato dal sito Isa e Kia, Baby Boy is Coming 2024. Il volto di Canale 5 è diventato papà nelle scorse ore e la gioia sua e della neo mamma è immensa. Sono state due le immagini pubblicate dall'ex protagonista di Uomini e Donne, che ha mostrato il neonato mentre ha stretto il suo dito e poi le mani di entrambi i genitori con quella del piccolino. Il volto di Canale 5 è diventato papà per la prima volta. Ad essere papà per la prima volta è stato questo volto di Canale 5, noto per essere stato sia corteggiatore che tronista di Uomini e Donne. Queste le parole per annunciare a tutti i loro follower l'arrivo del primo genito, 20. 10,2024 ore 5.02, Alberto Marciano. Ora abbiamo tutto, infatti, la loro famiglia si è arricchita di questa preziosissima presenza. Il neo papà è Mattia Marciano, che corteggiò Desiree Popper senza fortuna e poi andò sul trono. Qui scelse come sua fidanzata Vittoria De Ganello, ma la relazione sentimentale durò solo pochi mesi. Dal 2020 ha iniziato la sua love story con Camilla Fardella, ora diventata la mamma di suo figlio oltre che essere sempre la sua compagna. Mattia Marciano è un odontoiatra, che il 10 gennaio scorso ha anche annunciato di aver conseguito il master secondo livello in parodontologia ed implantologia. Camilla Fardella si definisce NetworkerPartner.co ed è seguita su Instagram da oltre 17.000 follower.